Gioan, sei tu? Vatten! Vatten! Scusa, il minacello è soltanto napoletano oppure... No, è il tipico folletto del sud Italia. Ciao. Io ero una bambina e vedevo stucare il rumbolo sulla pancia. Barbara. Ah no! Sei il mio padre? E chiama voi spirit? Ma fa a me piacere. E' uno che manda lettere anonime ai carabinieri in cui denuncia piccoli reati, illegalità. Per chi hai così bisogno di contattare il tuo padre? L'ambientalista lo faccio liberamente. Secondo il libro tibetano dei morti è uno stato di beatitudine dove si trova l'anima una volta che ha lasciato il corpo. Allora ti lascio i tuoi spiriti. Vuoi scrivere quello che vuoi sul tuo articolo? Che cazzo i tuoi spiriti. Ciao.